Poveri 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 magari, poveri poveri mai bam bam Eccoci qua Loa, benvenuti in questa nuova puntata di Bannami ancora, anzi ciao poveri benvenuti a tutti voi poveracci perché oggi parleremo di una questione che ha infiammato le tendenze di Youtube Italia ovvero parleremo dello shopping sfrenato di Nicole Kiss & Makeup che nell'avvicinarsi al matrimonio non gli bastano gli sponsor, gli servono anche veramente tantissime chanelle, tantissimi prodotti di lusso ma non sarebbe questo il male, il male cos'è? Ma Carpisa il male è il male! Che lei sbatte in faccia a tutti i suoi follower che lei ha fatto uno shopping di 10.000 euro ragazzi 10.000 euro sono una macchina, sono praticamente l'acconto per un box garage o magari anche per una casa se non costa tantissimo cioè è un compromesso ragazzi e lei fa 10.000 euro di shopping e ce lo viene a dire con un video della serie proprio poveri mai, poveri magari, poveri bam bam come la mia sigletta, spero che vi piaccia questa sigletta tra l'altro volevo raccontarvi un po' il mio look di oggi e fare come Paola Style ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look? Magari? Ciao Paola, ti lovo forever i tuoi look sono sempre molto acqua e sapone, ci piacciono il mio oggi è un po' baraccone perché ho inventato questo choker da pelati un choker veramente molto 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 carino e che definisce proprio il volto molto bene quindi anche i pelati e i senza capelli possono indossare delle fasce, dei copricapi senza paura e dei choker perché avendo il collo a cicciovello pesando 300 kg devo pur incorniciare invece il viso con un choker choker anche detto da pelata e sui toni dell'argento lo vediamo ah! sui toni dell'argento e del grigio ci sono anche i miei nuovi fantastici occhiali eccoli qua, sono grigi, sembrano magari rosa cipria però no, sono grigio, grigio topo, non topo, però comunque grigini e anche sugli stessi toni ho questa maglia un po' color grigio topo un top, è un top diciamo che è un top ci sarà anche un video sugli inglesismi youtubici del periodo che stanno andando molto in voga ma adesso dobbiamo parlare appunto della questione Bitch Better Have My Money di Nicole, che si è in makeup 01 che si è lanciata ultimamente in shopping sfrenato di lusso beni di lusso da tutte le parti che fuoriescono, Chanel che cadono dal soffitto Steve Alazzi, Yves Saint Laurent che ormai è solo Saint Laurent e non è più Yves o recchiazzi proprio molto sobri e comunque entriamo subito nella questione perché non è che sono io che dico queste cose perché magari voi potete pensare che io abbia un pensiero autonomo no, magari un filino ce l'ho però sono anche gli stessi follower e le stesse pagine anche un po' perculatorie che hanno evidenziato questa questione il video incriminato di Nicole ovviamente ve lo metto qua sotto nei commenti oggi cosa andremo a fare? l'anteprima vabbè ve la metto magari qua l'avete vista e è, diciamo, non ci sono parole per definirla perché lei dice proprio spendo 10.000 euro o comunque faccio 10.000 euro di shopping e adesso noi andremo a vedere sotto il suo video i commenti dei suoi follower e le critiche nei confronti di questo video e di questa tipologia di titoli perché diciamola tutta ovviamente Nicole sa che con questi titoli va in tendenza e arriva al cuore della gente cioè che tutti cliccano i poveri e i non poveri cliccano per vedere come mai ha messo questo titolo oppure anche solo per il flame che genera mettere un titolo di questo tipo poi nella crisi economica attuale eccetera cioè è tutto fatto comunque per le views anche perché lei ha un lavoro che si chiama YouTube l'ha detto lei stessa tra l'altro io mi guardo anche i suoi video non è che io non guardo io sono un vostro follower anche io però critico delle cose e evidenzio dei fatti e delle questioni quindi non prendetevela a male comunque andiamo subito una prima che è veramente ricca dentro lei veramente è top la amo dice parlare di cifre è poco elegante adoro gli oldi prodotti di lusso ma è molto cafone parlare di denaro di questo video cambierei il titolo eh sì compriamo pure vagonate di Chanel e robe da 10.000 euro però il titolo siamo un attimo sobri siamo ricchi non poveri ovviamente è tutto ironico anche questo un altro commento evidenzia la poracceria di questo titolo io ti ho sempre difesa quando qualcuno diceva non spendere troppo però con 10.000 euro ci compro la macchina persone normali hashtag cose bellissime comunque ecco questa vabbè un po' canzonatorio però comunque in senso ironico dice cavoli 10.000 euro sono 10.000 euro ragazzi cioè 10.000 euro poi c'è la carità tevole ma ogni tanto usare questi soldi per beneficenza capisco che il tuo sia un canale di cosmesi shopping e altre cose secondarie però vista la tua influenza sugli utenti di giovane età pensa che impatto avrebbe su di loro vedere che per essere felici non si deve per forza spendere questi soldi in cose materiali ma anzi che facendo qualcosa per altre persone meno fortunate si può dare un livello di felicità immenso per favore non attaccatemi come hater questo non è un messaggio di odio ma un invito alla riflessione questa è la moralista ovviamente che entra e dice fai beneficenza a non prendere Chanel ecco dovrebbe essere la testimonial di medici senza frontiere comunque e altri ovviamente tutto ciò è sempre in tono scherzoso poi ci sono ovviamente anche tutti gli invidiosi dentro perché sentendo parlare 10.000 euro di shopping ovviamente ti si accende una campanellina infatti questo dice con 10.000 euro potrei farmi almeno 5 o 6 viaggi in giro per il mondo alla scoperta di luoghi meravigliosi e poi c'è lei che si compra borse tutte uguali e se le annusa ah io non ho neanche guardato il video fino alla fine comunque annusa le borse vabbè se compro un oggetto che le piace comunque si vede che deve anche pure annusarlo non solo sfoggiarlo o farselo rubare come lei ha capitato più volte e comunque volevo dirti che i soldi sono i suoi e quindi i viaggi se mai li farebbe lei non tu poi c'è anche l'intellettuale attenzione quanti soldi che sarebbero potuti essere spesi in libri e vabbè 10.000 euro di libri comunque fai la biblioteca di Cracovia cavoli poi c'è quella che vorrebbe che criticassero altre youtuber e dice ma perché criticati solo lei ma secondo voi Chiara Facchetti quanto spende di borsa secondo me fanno a gara a chi ne compra di più poi c'è quella che tiene alla sicurezza di Nicole e le dice scusa Nicole ma è normale che poi i ladri ti vengano a fare visita almeno non dire il valore dei prodotti ovviamente è un consiglio ognuno è libero di fare ciò che vuole lei dice ho preso la chanella ho preso questo ho preso l'altro e dice proprio ciao poveri quindi io ricchezza assoluta e quindi magari secondo questa utente è un invito ai ladri però io non è che la penso tanto così perché comunque a parte che lei non si sa dove abiti eccetera eccetera e poi arriva il moralizzatore finale che dice che spreco di denaro uno schiaffa la povertà non avrei messo un titolo del genere avrei messo il mio shopping mega pazzo e non è invidia sinceramente non saprei che farmene di tutte quelle borse non sono nemmeno di mio gradimento ci sono borse migliori in giro le Cors sono le migliori cioè allora prima parte dicendo no non spendere tutti questi soldi cambia titolo poi dice vabbè comunque Michael Cors borse top per ricche assoluti voleva solo essere un video scherzoso ironico e satirico come tutti i miei video peraltro quindi metto sempre le mani avanti perché se no magari poi mi demolite anche se a me non interessa come le Noir Ferruzzi fatemi sapere se vi piace anche la mia choker per la pelata e anche i miei nuovi occhiali tra l'altro ne ho anche un altro pari che mi sono arrivati adesso ve li sfoggerò anche quelli nei prossimi video io sono super contento di fare questi video con questo look fatemi sapere e nada noi mi sa che possiamo anche vederci nei prossimi video ah no devo dire una cosa importantissima Nicole ha sempre sostenuto che questi video lei li fa perché le piace il bello le piace le cose di qualità le piace il design le piacciono queste borse è per questo che le fa vedere e anche lei dice quando era una poraccia quando non se li poteva permettere praticamente guardava i video dei prodotti di lusso quindi lei dice anche io adesso lo faccio voi dovete guardarli con un'ottica non da poracci invidiosi ma con un'ottica ah che bella borsa ah che bel materiale ah che bellezza viva la moda viva il design e non ci sta neanche tutto lo sbaglio in questo ragionamento cioè notate la mia sintassi nella costruzione delle frasi per poi riuscire a non tagliare vediamo se riuscirò a non tagliare e questa frase funzionerà entrate nella mia mente eccoci eccoci ci siete ci siete ci siete vabbè non so cosa sto dicendo sto dicendo che comunque il suo ragionamento non fa una piega però comunque c'è tatto e tatto per fare un tipo di video come questo e soprattutto il titolo magari non metti 10k soldi perché lì è proprio clickbait totale perché tu vuoi arraffare più views possibili e andare in tendenza con questi video così tutti i poveracci vanno a vedere il video per criticarti per dirteli dietro eccetera quindi poi non lamentarti magari agli haters perché gli haters fanno anche la tua fortuna comunque diciamolo perché tutti i click tutte le views fanno la fortuna degli youtuber la fortuna comunque chi ci lavora guadagna anche con ogni views non è che youtube dice ah no la tua è una views di un hater bye bye battene la tua è pur sempre una views ho tirato quindi le somme di questo video che se no poteva sembrare non avere né capo né coda mettete un bel like per avere altri video di questo tipo suggeritemi nei commenti tutte le gossipate dell'estate dell'autunno del presente del futuro sguinzagliatevi in giro per il web e portatemi su instagram anche oppure qua sotto nei commenti tutte le vostre segnalazioni mi raccomando seguitemi su instagram sono tsushijewels e faccio anche tante instagram stories eccetera quindi potete essere sempre by my side e comunque vi metto tutti i link anche nell'info box vi metto qua il pulsante dell'iscrizione body 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 my body my body e qua i video va bene ciao ci vediamo nei prossimi video con un nuovo choker magari o una parrucca mece fuga cius